In una mattinata, nei dieci banchetti allestiti nella città metropolitana di Venezia, sono state raccolte oltre 700 firme a favore dei quattro quesiti referendari proposti dalla CGL per cancellare le norme che hanno favorito la precarietà del lavoro e il sistema degli appalti. L'obiettivo è presentare questi referendum per ripristinare diritti che sono stati cancellati nel mondo del lavoro, per contrastare la precarietà, per dare un futuro lavorativo stabile, dignitoso e adeguatamente retribuito ai giovani. Per ripristinare i diritti, per dare garanzie ai lavoratori in appalto, per ripristinare quell'articolo 18 che è stato cancellato. L'adesione dei cittadini è stata particolarmente significativa a Maestra e Marghera. La campagna referendaria proseguirà nei luoghi di lavoro, nei mercati e nei luoghi di aggregazione. Chiediamo alle lavoratrici, ai pensionati, ai cittadini del nostro territorio di firmare, di venire ai nostri banchetti e sostenere questa raccolta firme, perché solo ripristinando i diritti nel lavoro possiamo costruire anche nel nostro territorio un futuro diverso.